L'importante è il paese, dai, mo se il nome non fa niente, Campacavallo... Ma non puoi domandare a qualcuno, già? Indietro? Sì, sì, e dobbiamo girare lì a destra, dove è... Ma secondo me che significa? Eh, è così... No, no, io l'ho visto lì a Google Maps. Capito? Buco? Come si chiama? A Google Maps. A Google Maps, se vi è sembrato... Ma non possiamo domandare, scusa, ho già domanda a questo. Ah, sì. Buongiorno, il vistorante Campacavallo dove lo troviamo? Campacavallo. Alla via dove stanno le poste. Nel vero senso della parola, Campacavallo. Dovrebbe essere... Alla via dove stanno le poste. Sì. Alla via dove... Non lo sapevo. È, qua, a dirlo. Vedo che vedo la vera piazza. Sinistra. E poi sembra sinistra. Quindi comunque qua la piazza. Vedi la vociola fino a più avanti. Ok. Ho capito. La posta sta sulla nazionale. Ah, delle marche. Ok. Oppure sì. Rina a posta, gira a destra. È marchigiano. Poi va a sinistra. Ok. Rina a posta, gira a destra, poi va a sinistra. Grazie. Grazie. Buongiorno. Poi arriva, no? Aspetta. Tu c'è che ha bisogno di niente già? Aspetta ancora, ce ne ho un'altra. Ma secondo te è delle marche questo? No. Ma fa proprio vince, vedi? Comunque. Grazie ancora. Grazie, buongiorno. Ma io non marchigiano, secondo me. Non marchigiano. Non lo so. Ma quello che cazzo è, mi diceva, aiu in coso, aiu, 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 aiu. Marchigiano. Non è, non è qua, non lo dico io. E dove dicevo io? Non mi posso sbagliare. Ma stiamo tornando indietro. Eh dai, oh Gesù. Non capisco, facciamo cosa, diciamo. Non mangiare direttamente. Ma stiamo a proprio la terra nera, li ha. Ragazzi, ha? Le gira quella? Aspetta, era all'altra. Era all'altra. Era all'altra. Era all'altra. Per giro. Eh, all'altra. Per giro. Tranquillo, ci siamo. All'anno scorso mangiamo queste parti, no? Dietro alla rova. Era alla rova. Non c'è uno con la bicicletta, eh? Non ho visto. Ci potete vedere questi calzettoni, vedi? Ma sappiamo che calzettoni ci sia. Vai, vai. Puoi andare, puoi andare. C'è Cristo. Il ristorante è campato a cavallo, apa. Allora prenotiamo, dai. Andiamo a vedere se è aperto. Bisogna suonare, penso che è chiuso. Noi ci arriviamo direttamente col poivino, non scendiamo mai oggi. Mi ha fatto bene tirare giù le biciclette, è stata una bella gita. Marco, stendi i bracci e suoni il cabanello. Eh si, così, in mezzo alla strada. Mi sono stancato, non mi sono stancato per niente. Ho sudato. Io voglio. Oggi ma perché sei voluto venire proprio qua? A me non interessa. Poteva mangiare più vicino a casa. 27 gradi. Che bella lavanda. Questa c'è ancora l'arredamento di Natale. Questa è l'ordine volta. Che problema di lavanda. Questa ci puoi fare i sacchetti per la biancheria. Mai suonato? Non c'è nessuno. Che dice? Non c'è nessuno. Io sono mangiato. Guardate pure qua la pizzerina. Fatta cucina. Se ti fa la pizza, se vuoi ti fa pure la pasta. Comunque non rispondo. A campacavallo? A campacavallo? Memorizza. È impossibile. Andiamo, andiamo. L'unica cosa è che non lo vedo molto grande. Mettiamoci la lavanda sotto le ascelle però. Che dici già? Senti, o ci mettiamo qua giù, ci cambiamo qua giù. Io ho pure detto qua. Più avanti? E adesso detto qua a sinistra. No, che resta un po' riparato. L'abbiamo deciso per questo? Eh sì, questo non c'è bene sicuro. Sì, ho capito, ma se sta chiuso? Ma non sta, ora sta chiuso da dieci. Che tardi apre sicuro. Dopo gli telefoniamo. Ah, ci abbiamo? Ce l'abbiamo in ora. Va bene. Eh? All'aperto. Quello era all'aperto che dicevi tu? No, quello c'è niente. Ah boh dai, andiamo, dai. Quella altra era all'aperto. Vabbè, sembra che è più importante il ristorante. Andiamo ad accogli. Andiamo ad accogli. Ma non ci stanno. Eh, perché era una gamba, vediamo. Danilo l'ha fatto così.